Preferire la bicicletta all'automobile potrebbe migliorare la salute a tutto tondo. A suggerirlo è uno studio pubblicato dalla rivista Environmental Health Perspective in cui i ricercatori di una città di Wisconsin, di Madison, USA precisano che preferire la bicicletta alla macchina per la metà dei viaggi su breve distanza effettuati durante i sei mesi in cui il clima è più caldo permetterebbe di diminuire i tassi di mortalità e le spese sanitarie per trattare condizioni come obesità e cardiopatie e facendo risparmiare così circa 2,7 miliardi di euro all'anno. Lo studio è stato condotto in 11 aree metropolitane dell'Upper Midwest che comprende gli stati di Wisconsin, Michigan e Minnesota. Scendere dall'auto per pedalare salverebbe 1.100 vite ogni anno semplicemente migliorando la qualità dell'aria e la forma fisica. Una delle ragioni principali di questo effetto risiederebbe nella riduzione delle polveri ultrasottili emesse nell'aria che da sola salverebbe 433 vite all'anno e anche se lo studio è stato effettuato in aree metropolitane gioverebbe anche chi vive al di fuori delle grandi città.